Il primo gol del campionato ed è stato Andrea Mariano che al ventitresimo ha realizzato errore della difesa del Dertona, Mariano sul lancio di Ceccaroni solo ha controllato. E questo è il primo gol del campionato di Mariano, il primo gol in assoluto nella prima partita di in casa 2-1, vincemmo col Dertona, fu il primo gol di Mariano, adesso vediamo il secondo gol, se non ricordo male è un calcio di rigore, eccolo è Mariano che si avvia, entra dentro l'area e viene, ed è il calcio di rigore per fallo su Mariano. Mariano stava entrando dritto, arbitro Arcangeli di Terni, guarda il suo collaboratore sotto la tribuna e poi concede la massima punizione. Il calcio di rigore è affidato allo Spezia, Mariano è caduto in area di rigore, l'arbitro ha controllato il guardaline e ha dato il calcio di rigore. Allora il fallo c'era, si trattava di stabilire se dentro l'esecuzione è affidata a Ceccaroni. Mi lascerò all'urlo del pubblico, probabilmente, esatto, rete 2-0.